buonasera spettatori e spettatrici di zim zoom bang la nostra trasmissione che riguarda gli eretici e gli studiosi non accademici che ci piacciono tanto stasera siamo in compagnia di marco della luna saggista avvocato autore di euro schiavi neuro schiavi e oligarchia per i popoli superflui ma noi l'abbiamo invitato perché c'è siamo rimasti affascinati da questo libro di cui questa è la copertina terminus il dio inconscio lo strutture dell'essere edito da aurora boreale edizioni è un libro allo stesso tempo affascinante e complesso lo dobbiamo dire che è complesso però ci permette di riflettere anche perché da questo punto di vista l'autore marco della luna è molto disponibile anche al confronto e all'approccio io ne sono testimone che quando gli ho scritto lui mi ha risposto subito e mi ha detto troviamo un modo per riuscire a fare diventare potabile questo libro dimmelo che l'hai detto dimmelo che sì è vero abbiamo studiato lungo quindi allora che cosa abbiamo fatto abbiamo impostato abbiamo preso perché c'è una parte di di marco che proprio mi è piaciuto molto dove fa tutta questa serie di domande perché come aveva già anche presentato nicola no perché io ti ho conosciuto tramite la trasmissione che avete fatto con nicola no a questo punto di vista ti ha introdotto proprio come filosofo ed è uno dei problemi più diciamo importanti che abbiamo nella nostra società che la filosofia viene vista o come qualcosa di inutile o come qualcosa di complicato mettiamola così mentre in realtà come mi hai spiegato tu fin dall'inizio la filosofia è utile anche per vivere la nostra quotidianità anzi per trascendere la nostra quotidianità e darci un'idea della nostra immortalità o della nostra divinità giusto così tu ti sei espresso per lo meno sì in termini meno antropomorfi però tuttavia il concetto è valido se ci lasciamo impregionare dal nostro quotidiano beh allora tanto vale che ci spariamo in bocca la mia prospettiva però non è sulla filosofia in generale ma precisamente sulla filosofia dell'essere o filosofia prima sulla ontologia che quella che quella parte della quella quella branca della filosofia che è caduta in disuettudine a seguito delle evoluzioni del neopositivismo e del pensiero debole eccetera del declino anche della della religione della teologia infatti la prima domanda che avevamo riformulato che ora io la faccio così come tu me l'hai mandato così restiamo un po nel nel canovaccio perché ritieni oggi in questi tempi di relativismo come dicevamo prima il pensiero debole vai passando anche questo discorso no facciamo finta che loro lo sanno che cos'è se non dobbiamo stare noi mezz'ora che possiamo stare tantissimo quindi l'indagine sull'essere cioè come dicevamo che cos'è allora quindi puoi introdurre brevemente che cos'è l'ontologia cioè spiegare che cosa da cosa si riferisce l'ontologia è lo studio dell'essere come essere questa è la definizione anche aristotelica quali sono le proprietà dell'essere eccetera l'ontologia è stata come dicevo in tempi recenti quasi abbandonata come tema di interesse perché aveva fallito nel rispondere a contraddizione fondamentale nel trovare una soluzione e di queste contraddizioni oggi si occupa terminus in un modo nuovo con un nuovo tipo di approccio l'ontologia vorrei ribadire è importante perché la nostra coscienza dell'essere cioè il modo in cui noi sentiamo percepiamo l'essere anche il nostro essere l'essere di tutto il mondo delle cose eccetera è decisivo per la qualità della nostra vita per il nostro umore di fondo nel senso che un conto è se sentiamo l'esistenza quindi anche il nostro esistere come precaria accidentale caduca priva di uno scopo di un senso un altro conto è se la sentiamo come eterna sicura e stabile l'uomo di oggi sente acutamente l'essere anche il proprio essere come precario e insicuro debole e ciò contribuisce al suo malessere e alla sua direi anche dominabilità psicologica questo faccio un esempio subito io non ho la televisione del 1997 perché sono convinta proprio dell'inquinamento della delle delle mie ghiandole no soprattutto di del la ghiandole perché il se io scelgo no di avere delle cattive notizie ogni dieci minuti un quarto d'ora come fa normalmente la gente è chiaro che questo influisce sul mio essere senza darmi la possibilità di pensare a cose che possono essere molto più utili e intelligenti mettiamole in questi termini tanto più in questo caso faccio proprio la quella terra terra no che ci sta quella il livello che è quello poi effettivamente perché in realtà quello che ci interessa che riguarda quello che può essere pericoloso per noi in questo momento il fatto che purtroppo esistono delle determinate cose negative dall'altra parte del mondo che io non posso risolvere comunque perché mi trovo in questa parte del mondo faccio il ragionamento quello che poteva fare uno che non sapeva le cose alla fine influisce soltanto come dici tu sul mio stato umorale non realmente sul mio stato reale e pratico di poter affrontare le cose diciamola in questi termini per lo meno se ti fa sentire l'esistenza come minacciata insicura addirittura brutta esatto altra domanda allora ci puoi indicare quali appunto tra queste paio di difficoltà o aporie fondamentali su cui l'ontologia si è arenata io le indico due che mi sembrano importanti e decisive la prima è sin dalle origini della filosofia l'uomo pensa l'essere gli enti da onta in greco in termini statici cioè come cose fisse ossia come in contrapposizione col divenire all'interno del flusso del tempo del divenire gli enti nascono si modificano muoiono è così che ci dice la nostra coscienza dell'essere è così che tocca anche a noi il divenire è qualcosa qualcosa che accade all'essere che gli viene dall'esterno che colpisce gli enti nel nostro sentire comune l'essere l'uomo stesso è come assediato da questo divenire tutto intorno a lui è come assediato dal tempo parmelide poneva l'essere il suo essere come assolutamente incompatibile col divenire con qualsivoglia modificazione perfetta staticità quindi affermava l'illusorietà del divenire ma da qui una difficoltà che è rimasta insuperata come consigliare l'impossibilità logica del divenire con l'evidenza immediata del divenire stesso e poi da dove viene il divenire il secondo grande problema il risolto dell'ontologia che troviamo già in parmenide è dato dalla difficoltà di conciliare l'unicità unitarietà della manifestazione con la molteplicità delle sue determinazioni e e ancora di più come giustificare spiegarlo logicamente il fatto che determinazioni enti proprietà tra loro differenti e reciprocamente escludentesi sono in relazione entrano in relazione ad esempio come la causa entra in relazione con l'effetto come il primo e prima entra in relazione col dopo spiegare il tempo come il qui entra in relazione con il la come un solo tavolo entra in relazione con la rotondità nel tavolo rotondo sono due cose diverse che cosa le pone in relazione è un è una terza entità che le pone in relazione e allora questa terza entità che non è né la prima né la seconda a sua volta deve entrare in relazione sia con la prima con la seconda e si innesca un progressus in infinitum accenno solo molto sommariamente a queste aporie che sono state esplorate ed eviscerate molto brillantemente nella prima parte del suo libro apparenza realtà da francis herbert bradley che scriveva alla fine del diciannovesimo secolo ad ambedue i problemi sopraindicati notoriamente i pensatori di tutte le epoche hanno dato diverse disparate soluzioni ma da ultimo i più hanno sostanzialmente rinunciato con l'eccezione con qualche eccezione illustre ad esempio ma quella di emanuele severino il quale dà però una risposta che come dimostra in terminus è illogica e insoddisfacente terminus risponde a questi problemi in un modo originale e nuovo risponde però dentro un'ottica che viene anche giustificata di cui vengono enunciati i fondamenti un'ottica idealista ossia di identità fondamentale ontologica tra essere e pensiero l'essere non eccede il pensiero la mente né viceversa e la prospettiva idealistica che io adotto è più precisamente quella attualista cioè mi rifaccio all'insegnamento teoretico non anche politico ovviamente di giovanni gentile oltre che all'idealismo negativo o scettico di Herbert Francis di Francis Herbert Bradley e questi sono solamente alcuni capisalti per poi articolare io sempre che da un punto di vista filosofico sono come si suol dire perfettamente allineate presente però se dovessimo dare un termine no visto che ogni volta il hanno tentato perché tu chiaramente citi anche i filosofi precedenti no che hanno parlato di essere e divenire uno uno tra questi iniziando da Cartesio poi sei passata a Kant e poi sei passata a Hegel giusto però io parlo di 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 Eraclito sì per questo sto dicendo io mi chiedevo un essendo una insomma che si occupa più del anche della della filosofia chiamiamola orientale no da questo punto di vista quindi una infatti sono sono stata attratta molto dalla dalle dalle associazioni che hai fatto per per l'India no da questo punto di vista come è possibile che i due autori che hai citato possano in qualche modo essere d'accordo sulla sulla sintesi e sulla ciclicità di cui parla l'Oriente no perché l'essere e divenire per l'Oriente essendo un discorso circolare no a proposito di tempo mi viene in mente questo sulla circolarità del tempo e quindi l'essere e divenire in pratica non si riesce a distinguere siamo noi che per poterlo esprimere da un punto di vista poi verbale e intellettuale di pensiero per poter parlare di queste cose abbiamo la necessità di 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 dovere in qualche modo ehm dividere questi concetti no perché in realtà se avendo noi la comprensione direttamente come dicevi tu attraverso i vari tipi di corpi no quindi parlavi prima dei vari tipi di corpi non dovremmo qui nemmeno essere a disquisire da un punto di vista filosofico però io volevo capire in termini pratici no perché tu dici non c'è chiaramente è un discorso di indivenire no ma qual è il significato reale tra essere e divenire cioè in italiano in questo momento se tu mi dovessi dare una definizione precisa come si può fare a capire questo capire che cosa il significato di queste due parole noi usiamo tre termini essere divenire ed esperire o per le ben in tedesco cioè fare esperienza vivere qualcosa e li usiamo con tre significati diversi l'essere qualcosa di neutro statico non ha una storia il divenire è la storia implica trasformazione mutamento e l'erleben o l'esperire implica coscienza e soggettualità e bene questi significati sono i significati delle parole ma ciò che queste parole significano alla fine sono tre cose che sono in realtà una sola non sono separate diverse sul piano ontologico noi possiamo fare tutte le distinzioni verbalistiche nomenclatorie che vogliamo ma queste rimangono un'unica cosa cioè io affermo l'identità indistinguibilità se non sul piano delle definizioni lessicali indistinguibilità tra essere divenire ed esperire quindi non non c'è un come si suol dire è un allora quindi abbiamo un primo un secondo come dici tu è la produzione di un terzo che è unifica i due ecco non c'è niente viene unificato ciò sono sono tre aspetti di un di una unità e indissolubile che senza qui non c'è esistenza e come è come dire che distingui i tre aspetti tre aspetti che isoli verbalisticamente con strumenti verbali di un'unica cosa è una sfera di marmo e dici pesa 80 kg o poi dici a colore bianco e poi dici a un raggio che so di 30 centimetri bene non è che il raggio esista separatamente dal peso e dal colore ha individuato tre tre cose con un atto di un atto logopoietico hai creato delle parole ma ciò che hai significato da queste parole è un'unica cosa che sia per me padre il figlio lo spirito santo tre persone in un'unica sostanza un unico ente no sono cose indistinguibili tra loro ok siamo noi che abbiamo necessità di distinguere per poter arrivare alla comprensione o per lo meno una pervenza di comprensione solo che noi distinguiamo creando le parole e poi ci dimentichiamo che queste parole le abbiamo create per descrivere i medesimi aspetti di un di un'unica realtà e ci interroghiamo su come poter mettere in relazione queste cose che sembrano diverse e non possiamo mettere le relazioni questa è una cosa che avviene costantemente nella storia della filosofia avviene in modo clamoroso come spiego con personaggi come hegel è una grossa ingenuità però è una di quelle ingenuità che stanno così vicine alla pupilla o meglio alla favella che non riusciamo ad accorcerci assolutamente d'accordo con te quando sono arrivata alla fine delle varie materie di filosofia soprattutto quando sono arrivata a wittgenstein no che è uno che mi piace tanto che ha detto che praticamente qualsiasi cosa su cui si era filosofato era totalmente inutile io ero d'accordo con lui no proprio cioè proprio diciamo non era un nichilismo diciamo soltanto dettato dal dal momento critico del periodo della della sua germania e via dicendo ma era una sintesi tutto quello che era successo prima io ho sempre in maniera molto forfettaria e molto come si suol dire bassa anche se mi sono lavorato in filosofia come ti dicevo ho sempre definito questi filosofi uno che contraddiceva l'altro uno che aveva una matrice che fosse cristiana gli altri che invece avevano questa matrice del grande nulla o del grande caos e via dicendo quando poi alla fine ci si confonde in mezzo a un sacco di definizioni quando in realtà quello che stai dicendo tu è qualificante per cui alla fine qualsiasi cosa non è possibile definirla in sé possiamo comprenderla attraverso altri stadi e il fatto di aver inventato tutto un vocabolario filosofico ci ha messo in questa situazione cioè in realtà più che altro non ha non ci ha fornito una chiarificazione ma in realtà ci ha creato soltanto una forma più confusa di intendere quello che sta di cui stavamo parlando faccio un altro l'altra domanda ma al di là dell'aver creato una giungla di parole di concetti io mi concentro su questo nel terminus c'è una generale e inconsapevole pratica dei filosofi che consiste nel creare parole e di dimenticarsi che sono parole che abbiamo creato noi e trattarle come enti o come cose che riguardano la realtà assicché porre una certa cosa e un'altra cioè porre due parole insieme e porre due realtà due esseri insieme e questo diventa difficile anzi impossibile perché noi nel momento stesso della creazione di queste parole che distinguono due aspetti della medesima realtà abbiamo operato una distinzione se abbiamo operato una distinzione tra A e B tra essere e divenire mai riusciremo sul piano verbale su cui abbiamo operato questa distinzione a ricomporla se non ricordiamo che l'abbiamo fatta noi con una scelta diciamo verbale discorsiva dobbiamo riassorbire questa nostra creazione cioè se dimentichiamo che sono solo le nostre parole non riusciremo mai a rimetterle insieme perfetto quindi l'altra domanda era questa no allora come si spiega l'esistenza di qualcosa di dato al soggetto e beh io dico molto chiaramente che tutta l'esperienza è l'esperienza del soggetto è entro il soggetto non è un qualcosa che si dia al soggetto il soggetto non viene trasceso dal da ciò che gli si dà e d'altro canto il soggetto è trasceso dal fatto di dover avere un limite cioè un termine su un confine questo sì il confine però non è non è altro che una necessità o una necessità dell'essere io ho precisato che dicevo prima anzi che il l'esistere richiede l'esperienza l'esperienza richiede il divenire il divenire richiede la limitatezza del soggetto se il soggetto deve essere limitato cioè finito deve avere una delimitazione questa delimitazione o confine appunto terminus che da nome al libro è che anche il dio del anzi dio ha anche il dio necessità che prevale a dire sullo stesso giove e se il soggetto deve essere limitato al fine di poter divenire allora il dio dei cristiani il dio dei teologi cristiani è impossibile non può esistere perché un dio infinito non può divenire occupando già tutto lo spazio dell'essere dell'esperibile quindi non esiste c'è spazio per gli dei del politeismo non per un dio assoluto e questa questa limitazione è qualcosa che si dà ma si dà anche al soggetto ma si dà anche un'altra cosa sia che lo spiego poi diversamente perché dove tu me la voglia chiedere a parte noi abbiamo l'incontro con l'altro in forma penso che Barclay avesse introdurito qualcosa di questo genere in forma della di una resistenza alla nostra volontà di un senso di pressione che è l'incontro appunto con l'alterità con quello con ciò che sta al di là del del terminus quindi sì infatti poi la domanda successiva era questa no ehm essenza di esistere no questo già l'abbiamo ne abbiamo parlato appunto da dove viene l'essere perché esiste qualcosa anziché non esistere no non abbiamo fatto questo questo no ok ehm no questo non me ne aveva anche richiesto ehm tu mi chiedi come eh aspetta un attimo questo ehm perché esiste qualcosa anziché non esiste quesito originariamente di Leibniz ripreso di Heidegger da dove viene l'essere questo è il eterno quesito dell'uomo ma queste due domande si eliminano da se stesse perché la loro struttura è contraddittoria se ehm l'essere venisse da qualche parte da qualcosa da qualcosa di diverso dall'essere allora questo qualcosa non esisterebbe quindi l'essere non potrebbe venire da esso se invece esistesse allora farebbe parte dell'essere e allora l'essere non verrebbe da esso ma lo conterrebbe ehm analogamente si elimina un'altra domanda perché esiste qualcosa in che anziché nulla e perché cioè a causa di che cosa si chiede quale sia la causa dell'esistere di ciò che esiste beh se questa causa esiste allora fa parte dell'esistere di ciò che esiste e quindi non può essere causa del suo esistere se invece non esiste allora non esiste non è nemmeno la causa di ciò che esiste e sono due domande che si tolgono da sole l'altra domanda era quella che faceva così essenza ed esistenza sono separate nel senso che alle prime si aggiunge non aggiunge la seconda oppure coincidere l'essere puro esiste separatamente dalle determinazioni così ribadiamo sempre la stessa cosa però la specifichi sempre di più no? rispetti delle medecime cose è utile dividerli separarli perché fanno afferrare meglio il concetto e io sono perfettamente d'accordo con ciò che dice Emanuele Severino l'essere è l'essere delle concrete determinazioni dell'essere non l'esistenza non è un predicato non sopravviene a un qualcosa che non è perché se non è non è e quindi niente può sopravvenire a ciò che non è l'esistere non si aggiunge alle varie determinazioni cioè non è che da una parte ci sia sia l'esistenza e dall'altra parte stia senza esistere un supponiamo una rosa e che a un certo punto operazione di chissà chi l'esistenza possa unirsi vada ad unirsi alla inesistente rosa per dar vita a una rosa esistente la rosa se esiste esiste se non esiste non esiste ogni positività fenomenica esiste siccome determinazione della totalità dell'essere altra domanda l'essente inizia e cessa oppure non può essere o divenire niente è finito o infinito è finito e infinito è la famosa paralogia trattata da da Kant nella critica della ragion pure non è una domanda qui non ci può essere risposta perché se c'è un'estensione bene questa sensione esiste e se non c'è un'estensione non si può dire che qualcosa sia finito rispetto a un'estensione maggiore l'essere divenire l'essere ricordiamo è divenire ogni suo componente è essere e come tale non ha inizio né fine l'impossibilità che l'essere inizia e finisca ossia che sia stato nulla o che vada a diventare nulla non essere Parmenide intendeva dimostrarla col principio di identità e col principio di non contraddizione ossia dicendo che l'essere è l'essere e il non essere non è non essere ed è impossibile che l'essere che l'ente sia non ente che ha sia non ha niente può essere o divenire altro da sé sarebbe una contraddizione logica assoluta diceva dice il pensiero Parmenideo ma comunica comunemente si è fatto notare che questo principio di non contraddizione è valido vige sicuramente sul piano logico sul piano semantico della definizione perché chi lo nega che nega ad esempio che ha sia a e non sia non ha nega anche che il suo negare sia negare e non affermare e questo è il famoso elencos aristotelico però si rileva anche che il fatto che sia che questo principio sia sicuramente valido sul piano logico non implica che viga anche al lato pratico cioè sul piano ontologico esistenziale fattuale empirico e io in terminus svolgo una dimostrazione di tipo empirico oltre che logico che il principio di non contraddizione in realtà ha anche quel valore esistenziale ontologico onde l'essere ogni sua concreta determinazione è veramente senza inizio e senza fine e non può essere diversamente ma di fronte a questo concetto di essere e divenire quindi che è un unico concetto che cos'è la coscienza c'è una o sono molte perché poi è il sottotitolo di terminus da questo punto di vista l'esistente è come dicevo è l'emnis esperienza cosciente ok ma dicevo anche che nessuna coscienza può essere coscienza di tutto di tutte le esperienze di tutto della totalità dell'emnis d'altra parte però non può essere che quando io non sono cosciente di qualcosa quel qualcosa non esista perché sarebbe come affermare che l'essere diventa non essere allora è evidente che devono sussistere numerosi soggetti numerosi centri di coscienza che fanno esperienza e tra cui l'esperienza totale cioè l'essere totale è ripartita tu mi chiederai ma oltre a inferire la loro esistenza in via logica posso anche conoscere queste altre coscienze posso conoscere tu bene noi abbiamo penso di averlo già detto un certo contatto con l'altro la resistenza che proviamo alla nostra volontà alle nostre azioni la pressione che ci sembra di ricevere sulla nostra volontà e sulle nostre azioni però non possiamo avere dell'altro una coscienza analoga a quella che abbiamo di noi stessi perché altrimenti l'altro sarebbe automaticamente noi stessi abbiamo conoscenza come spettrale da un lato e puramente razionale inferenziale dall'altro un po' come dire quel discorso di cui parlava Jung della coscienza collettiva l'inconoscibilità dell'archetipo di Jung possiamo intuire che c'è per farci qualche idea e dall'altra parte poiché la la gran parte della dell'esistente cioè dell'esperienza totale è al di fuori della mia personale e attuale esperienza e non si unifica mai non esiste un soggetto che sia simultaneamente cosciente cioè esperente il tutto proprio per questo la totalità dell'esperienza è inconscia è l'assoluto è un dio se vogliamo ma è inconscio il fatto che sia inconscio non significa che sia inesistente o che noi non possiamo tendere o intenzionarlo addirittura non è insensato scrivo nel libro pregare o coltivare il misticismo perché questa totalità dell'esperienza è in gran parte inconscia e l'inconscia come totalità non è inesistente quindi può essere oggetto di un'intenzione io posso tendere ad essa posso rivolgermi da questo punto di vista sull'inconscio nel bene o nel male sicuramente il primo che ha codificato ha codificato insomma che ha intuito la sua esistenza l'hai citato anche tu prima è stato Freud di cui quello che c'è quello che non c'è non sto parlando dei contenuti dell'inconscio comunque ne ha parlato lui per la prima volta ufficialmente nella nostra società attenzione perché in realtà poi gli antichi ne hanno parlato tantissime volte diciamo una parte che noi possiamo esperire o attraverso la meditazione o attraverso il sogno nell'incubazione come avveniva nell'antichità o attraverso anche i stati psichedelici chiamiamoli così insomma attraverso delle sostanze quindi questa parte diciamo così come dici tu che così è infinita perché comunque sia infinita e che potrebbe essere anche definita se volendo è totale io non userai la parola infinita direi infinita nel senso che non è finita ma non che sia infinitamente estesa ok infinita che non è finita ok non ha un limite illimitata ma quindi in questo caso è Terminus che però invece interviene com'è? Terminus è il ripartitore della totalità dell'esperienza dell'essere è una necessità che non può essere separata dall'essere è uno dei caratteri delle proprietà dell'essere ok altra domanda che diciamo è conseguente alla definizione o perlomeno a una definizione che stiamo cercando di dare della coscienza è se si può inferire qualcosa oltre la totalità dell'immediato dell'esperita appunto all'esistenza di altri soggetti e dell'assoluto oppure del Dio inconscio ma che cos'è immediato e che cosa significa immediatezza sono le singole sensazioni e qual è il rapporto del mio io con questo oggetto ecco in quanto alla prima parte della domanda sì e noi abbiamo appena ho eseguito l'operazione di inferenza di qualcosa oltre la totalità dell'immediato dell'esperito abbiamo inferito l'esistenza di altri soggetti abbiamo inferito l'esistenza del Dio inconscio abbiamo colto in qualche modo l'esistenza di Terminus che propriamente non è considerabile come qualcosa che sia manifesto in quanto invece all'immediato io uso il termine immediato fenomenicamente immediato in un modo piuttosto basilare per disegnare il contenuto qualsiasi contenuto dell'esperienza o coscienza cioè il contenuto dell'esperienza in atto compreso quel contenuto che non è propriamente un contenuto che è la forma dell'autocoscienza essendo la forma comprensiva l'orizzonte non è un contenuto ma è un contenente se vogliamo per precisione il carattere di unitarietà è pure un contenuto che non è un contenuto vero e proprio ma è una caratteristica trascendentale il concetto invece di sensazione io non l'ho usato non ho usato la parola sensazione perché quando tu parli di sensazione presuppone già tutta una metafisica una metafisica dualista naturalista in cui esiste un soggetto l'oggetto il dualismo materia pensiero esistono gli organi di senso esiste un'impressione da parte del mondo esterno sugli organi di senso che trasmettono alla mente in qualche modo questo è tutto alieno ora ti faccio una domanda per esempio in questo momento l'esperienza che stiamo avendo noi due mentre stiamo facendo la trasmissione da questo punto di vista come definizione dove stiamo parlando dell'argomento che stiamo vivendo in questo momento sì come potrebbe essere rappresentata come come concetto rispetto all'argomento di cui stiamo parlando è un'attività di meta riflessione cioè noi riflettiamo sul riflettere speculiamo sullo speculare stiamo riflettendo su inferenze e stiamo anche ipotizzando supponendo ciascuno di avere un interlocutore analogo a se stesso io suppongo che tu sia analoga a me tu supponi che io sia analoga a te ma in realtà io non percepisco non posso percepire la tua autocoscienza come tu non puoi percepire la mia quindi il nostro è un agire in modo un intendere la intenzione intendere la comunicazione entro un orizzonte ipotetico supposto ok oh diciamo che ci abbiamo verso la fine quindi abbiamo queste ultime due domande una fondamentale che riguarda anche come si suol dire reparti religiosi che noi abbiamo fatto in passà ma ci sta pure no? esiste la libertà intesa come il libero arbitrio di indifferenza io ho sempre negato la stessa formulazione libero arbitrio di indifferenza è contraddittoria cioè l'affermazione esiste una scelta fatta in libero arbitrio di indifferenza è autocontraddittoria perché se l'indifferenza tra la scelta A e la scelta B è totale allora che cosa fa sì che io possa scegliere A e non B e se sceglie A e non B vuol dire che non mi era del tutto indifferente ci sono altre ragioni per negare la possibilità della libertà intorno l'arbitrio di indifferenza oltre a quella della contraddittorietà intrinseca del suo concetto e questo concetto suppone a terceiro d'altro che al soggetto sia indifferente fare A oppure B e che per questo possa scegliere di fare A anziché B o viceversa liberamente ma se davvero gli è assolutamente indifferente la scelta allora non sceglie cioè fa come l'asino di Buridano e muore di stella e se invece sceglie è perché o non gli sono indifferenti oppure c'è un fattore X che lo fa propendere per A anziché per B e in ogni caso se sceglie A anziché B sarà per una qualche causa questa causa supponiamo che la chiamiamola A1 questa causa A1 il soggetto la scelta o non la scelta se la scelta allora di no si pone un problema perché ha scelto A1 anziché B1 per un fattore A2 e così all'infinito ecco sono troppe troppe evidenze di incoerenza e impossibilità logica di questo concetto allora abbiamo qui l'ultima domanda che riguarda appunto l'ultima parte di Terminus cioè quali sono quindi le proprietà dell'essere se riusciamo a definirle e le caratteristiche comuni di tutti gli enti a cui proprio tu hai dedicato diciamo il sottotitolo di Terminus cioè che cos'è lo statuto dell'essere? lo statuto dell'essere l'ultima parte di Terminus l'ultimo capitolo è la definizione delle caratteristiche delle proprietà delle necessità proprie dell'essere come esistere in estremo distillato l'essere essere uguale a divenire uguale a esperire poi secondo punto direi non vi sono molti enti esiste un unico essere un unico essente terzo punto i soggetti dell'esperire essere e divenire sono necessariamente limitati come dicevo altrimenti non potrebbero divenire cioè non potrebbero esistere quindi l'essere esperire e divenire è necessariamente suddiviso tra molti soggetti esperenti contemporanei l'essere eterno è un divenire circolare ricorrente la sua eternità è dimostrata dalla dimostrazione empirica della valenza anche ontologica e non solo logica del parmenideo principio di non contraddizione in realtà sono 33 i punti dello statuto dell'essere ho fatto una estrema sintesi vabbè ma ci interessava fondamentalmente parlare del libro e capire quale fosse appunto la come si dice la matrice la matrice penso che l'abbiamo individuata il fine lo ribadisco è quello di suscitare favorire una presa di coscienza dell'essere che si traduca in un migliore sentire senso dell'essere che comporterà un miglioramento anche dell'umore di fondo della percezione di se stessi della realtà renderà le persone più sicure nell'essere perfetto noi ti ringraziamo Marco e sicuramente ti inviteremo un'altra volta per altri libri tuoi intanto partiamo da questo che magari era l'ultimo uscito con cui ti ho conosciuto e mi faceva piacere intervista ma nel frattempo è uscito anche Gregge e potere il libretto rosso delle pecore nere perfetto quindi ora piano piano non ti preoccupare abbiamo tutto il tempo del mondo in modo ti salutiamo e ti ringraziamo grazie Marco è stato un piacere grazie arrivederci arrivederci grazie a tutti grazie a tutti